Questa è mia però, me la merito come premio Ma che cos'è questo game? Aspetta che voglio anche questo, perfetto E cure sempre niente però Io non ci credo, io non ci voglio credere E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Stef, che si giocava Fortnite Benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite In cui cercheremo di giocare senza raccogliere neanche una cesta Quindi Stef, niente, neanche una Zero Neanche se ti metti a piangere, neanche se ti sbatti in terra Ma se le do una testata invece vale? Se la rompi sì, perché mi sembra anche giusto non avvantaggiare gli altri Non lasciare queste ceste lì Tutto il game senza aprire nemmeno una cesta Va bene Vale tutto nelle ceste, è semplice Ci sono le armi per terra, ci sono i cadaveri Può andare bene, non dico che è facile ma neanche impossibile Il mio dubbio è fare corso commercio a boschetto bisunto Che città scegli? Dimmi una Boschetto bisunto, vai Boschetto bisunto? Andiamo, secondo me ci sarà un po' di gente Mi ispira di più il nome L'idea è questa Dato che noi non possiamo prendere le ceste Se andessimo in un posto lontanissimo Non potremmo prendere le ceste Troveremo giusto due fucilini Saremmo messi abbastanza male di equipaggiamento Dopo 5-10 minuti incontriamo i player full equipaggiati e ci massacrano In una città invece Se luttiamo qualche arma per terra Ammazziamo qualcuno che ha preso le ceste Usciamo dalla città ben equipaggiati E almeno abbiamo qualche speranza di vincere Allora Vedi qualcuno, sì? Sì? Uno Tre Quindi due team per forza Quattro Sì 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 Ok Ok va bene Io vado qua Ok mi metto nella casa a fianco alla tua così siamo vicini Perfetto Loro mi sembra che siano caduti nella parte iniziale della città Ma non sono sicura Ok Pistola blu abbiamo vinto Bravo 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 Sei gelosa Tu sì che sai trovare i bei loot Steph Lo so Vabbè dai oddio Vedevo qualcosa dall'alto di blu E sono sceso tutto felice Per iniziare comunque non è che sia malissimo Beh per difendermi Oh mitraglietta verde Ok molto bene Bravo Steph Qua c'è un bellissimo armadio M16 bianco ma comunque noi lo possiamo accettare Ci sta bene Qua ci sono le munizioni Sì prendiamole Dai che mi servono un botto di colpi 58-54 Ok Dai un'altra arma Un bel pompa Un bel pompa e sono abbastanza a posto Ok qua c'è la cesta Da me non c'era niente Rompiamo la cesta Mi farà male farlo Una Aia Sono in casa tua e ti sento spaccare ceste È nata la rotta Bello sì divertente È stato doloroso Divertente molto Sappi che è stato doloroso Materiali Una trappola Allora sono un po' preoccupata Steph Perché non ho idea di dove possano essere E ho solo due fucili a pompa Quindi neanche dire che li posso mirare con qualche fucile Quindi Ok E quando ne hai lootato tu vero? Dove? In questa di fronte Eh mi sa proprio di no Ok No io quella a fianco a te Ho fatto solo quella a fianco a te Li vedo Ok arrivo Dannazione l'ho perso dalla mira Dove sono? Aspetta Ma c'è ancora qualcuno qua? Mmm Sì 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 Dove però? Qui sotto Vai Fere Vai Fere Dove è l'altro? C'è un altro È andato via Arriva No 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 Lì Esci 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 Se non mi ammazza Brava Vai Fere Vai Fere Dai Sto saltando un botto Sto finendo i colpi Yes Mamma mia Non ho più vita Steph Mi sono rimasti nove Vieni qui sotto Arriva Mi sta esplodendo il cuore Madonna Mi fa male Mi fa male la pace È stato difficilissimo Perché avevo Pochi colpi E per non aspettare Che ricaricasse Stavo cercando di cambiare Sempre i pompe È stata una tragedia Ok Il problema è che non ho cure Quindi come faccio? Eh beh dai Siamo messi bene di vita no? Eh sì Allora Allora Qua Bomba ballerina Speravo avesse delle cure Non possiamo neanche aprire le chest Ma dimmi te che saranno nascosti qui dentro Già 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 Questa la prendo così Ok Fere Cosa facciamo? Non ho idea Seguimi Ho necessità assoluta di bende Quindi stavo un attimino guardando Se era rimasto qualcosa dentro casa E non possiamo aprire le chest Eh esatto Quindi diminuiamo le probabilità di trovarlo Sì sì Io voglio fare una roba del genere Ok Ricaricata 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 Perfetto C'è un altro team minimo Lo so Perché ne abbiamo visto Questa è l'unica casa che io ho fatto Gli altri no E poi sono venuta da te Ok Grazie Eh ti ripeto Stare con nove di vita Non è che sia Beh ne ho trenta Cioè comunque dopo che ho fatto 2 kg Sparano Non voglio neanche morire così Lo so E togliermi tutta la gloria Lo so Sarebbe uno spreco Colpi che si Dopo aver salvato Steph oltretutto Pompata L'ho realizzato adesso che ti ho salvato la vita Già È stato divertente Non capita mai Eh esatto È sempre il contrario quindi Senti? Eh sì che sento Che facciamo? Perché io li vedo eh Cioè quelli sono a mitraglie e tutto E noi siamo così come Secondo me l'unica chance È andare Dici E che dobbiamo fare? Ti sei dimenticato che ho 9 di vita Io ne ho 30 Te l'ho detto Non va molto meglio Eh ma che cavolo Ne vedo uno Ok Dove? Qui di fronte a noi Non so se sono uno o due Faccio sta che sta sparando un altro team Vieni qua Ah eccoli guardali con la balestra Li vedi? Ok uno ci abbiamo proprio vicinissimo allora Allora vediamo che combinano Io ci controllo un attimino le spalle Perché Ti ho detto Steph di stare fermo che devo controllare le nostre spalle Mi giro e sei già andato avanti Che facciamo? Perché si stanno allontanando da noi Non so Non so Io li lascio ristare Dici? Vediamo che fanno Se tornano indietro andiamo Altrimenti no Li stanno cercando ma non li trovano Perché i tipi hanno continuato a correre Eh sì Li inseguiamo? Sì Andiamo? Che rischio Sei un po' troppo impavido È impavido Non c'è loot Cosa dobbiamo fare? Dove ne troviamo le cure? La città è tutta lootata dietro di noi Quindi questi qua sono i player Che probabilmente hanno le cure Ma magari qualcuno qualche bende le ha mollate Dai le bende non si prendono mai Aspetta Dai piano Sparano? Sparano Sì li hanno trovati Di qui Madonna che ansia Ma perché devo fare queste cose? Ok li vedo Sì Visto Io ho anche pochi materiali Stef È una follia Una ha provato a sparare a noi Colpito Uno è giù Gli ho colpiti un botto dai Uccidiamo l'affare È morto È morto? Sì ce l'abbiamo fatta Uh Ce l'abbiamo fatta Dimmi che ci sono cure 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 Non ci posso credere Vai a cercare cure veloce Vanno aspetta munizioni Io mi tiro uno shieldino Ho paurissima che arrivi con la dosta Sicuramente qualcun altro Lì vedo uno shield Cure Cure Dai Allora Mi prendete in giro Shieldino Ma non c'è nulla Ti do due shieldini Mi prendo lo shield Che posso fare? Era uno o due? Era quello ciccione È ma solo uno? Sì Ok Ti ho atteggi i shieldini Ti giuro che sono lì lì per mettermi a piangere Calma Cecchino Nessuna cura vero? No Ok vabbè tu almeno vai full shield fare Che ti devo dire Eh che ti devo dir io Allora Ok Ok Io ti ho detto che le bende le hanno lasciate in città guarda Andiamo a cercarle allora Allora aspetti un attimino Mi devo tirare lo shield ma Non so Cioè dovrebbe non esserci più nessuno tecnicamente Tecnicamente? Mi metto qui sotto e spero per il meglio Che non mi sparino in testa Nel mentre che mi bevo lo shield Aspetta Ok Credo che ci sia gente Vero? Sì Ho avuto il presentimento anche io C'è? Sì Questa è mia però Me la merito come premio Ma che cos'è questo game? Aspetta che voglio anche questo Perfetto E cure sempre niente però Io non ci credo Io non ci voglio credere Ok Allora c'è da dire che non abbiamo preso ceste Fere 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 Vieni dentro veloce La zona la zona la zona la zona la zona Mi butto Ti dicevo che il non prendere ceste Evidentemente c'ha incattiviti Non so come Come sta andando Il game non è molto pacifico Quello senza dubbio Vi prego Delle bende Cioè non stiamo chiedendo i medikit No bende Qualunque cosa Qualunque cosa Certo Cioè bende Non è che chiediamo tanto Abbiamo Tutto nell'equip Dateci la bende Anche tu hai il cecchino Sì ok Però non hai colpi Ti mancano i colpi anche di qualcos'altro? Eh no Per il resto sono abbastanza a posto Anche se non sono tantissimi Il cecchino ne ho solo uno Ok Davvero pochi Eh io il cecchino E anche la La nuova balestra Però sinceramente Non credo che ci servirà molto Allora dobbiamo stare un attimo Attenti qui Che ci manca solo Piano piano Con calma No no Io mi sono fidata di te Ho detto L'avrà fatta La struttura E come ti ho visto fare Ecco Ho detto Cioè mi hai fatto perdere anche lo shield In realtà Io lo uccido Io lo uccido No ti uccido io Ti stessi dovuta buttare giù Così tornavi a 30 di vita Lo shield ti è rimasto Ah no no Sì mi è rimasto Ok E dicevo così Più vita di prima Sì ma scusa Mi dovresti far tornare alla vita No no Vabbè giustamente Tornavi a 30 Uno shield Vai 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 Ok Ha fatto molto ridere Sì sì sto ridendo tantissimo Questo game è la cosa più strana Dovevamo semplicemente fare una challenge semplicissima Sta a succedere di tutto No semplice non era però Vabbè dai non è che sia così complicato Ma quindi andiamo a condotti Aspetta Niente Mi era sembrato di vedere costruire Invece no Eh boh che dici Boh C'è le possibilità che ci siano delle bende Ci sono Ovviamente è lootato Perché ho visto Gente Ecco qua No vieni via Non ci sono Non li ho sparati Sei lontano Perché io stavo andando dall'altra direzione Perché devi ricordarti che siamo fuori dalla zona Non so se Va bene fermarci così tanto lì a cercare bende Capisci Eh lo so ma se Non troviamo le bende È una grave situazione Comunque c'è un botto di gente che si spara Dove le viste le persone? Eh lontane Lontane Ah ok Quindi vengo tranquilla Sì Li ho visti E forse loro hanno visto me Aspetta Ah eccoli Colpito Ok Così anche lui sa cosa si prova L'avere poca vita L'ho mandato basso Eh bravo Aspetta Guardati anche intorno Ok Stanno builando Stanno builando Stanno builando Sembra che vogliono andare verso l'alto pure Questi vorrebbero fightare È gente cattiva Gli abbiamo fatti arrabbiare probabilmente Però gli ho fatto male Ho paura di vedermi qualcuno alle spalle Stanno assaltando Mi sa che ha pure l'RPG Però c'è gente che costruisce dietro di loro Ok E quindi potremmo pensare che sono quelli Ma siamo Se li notano Siamo lontanissimi dalla prossima zona Ma proprio dalla parte opposta Eh lo so Dovremo iniziare a muoverci Allora lì hanno bullato Ditemi che state mirando a quelli adesso Vi prego Per occhio che se no ti vedono a te Stai un po' più in qua Volevo controllare No ma non vedo Io me ne andrei eh Eh lo so ma se ci vedono ci Annientano Ma sparano da fuori Sì Che ci fai Fere è morta gente dietro di noi Ah wow Cavolo Non si vede niente Con questa barriera Lo so Come pretendi che possa vedere Ci ho anche buttato un occhio Ma è blu Vedo un sacco di lucine Però lì non c'erano lucine Se no li avremmo prese Quelle lucine Ho visto anche dove cade l'airdrop Vabbè io mi sto muovendo Fere andiamo Sì 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 andiamo Oh 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 Il pompa bello Ok Let's go Aiuto Siamo rimasti in 14 Sto guardando intorno Quei player di prima Comunque non li sto vedendo Per fortuna Altrimenti da qua Ci avrebbero sparato Molamente Fammi vedere la zona Comunque Beh sì è lontanina È lontanina Eh ce l'ho detto Io non ci credo E poi noi non possiamo Prendere danni di zona In queste condizioni Quindi ci conviene pedalare Come mai Fere Come mai Qua ovviamente è tutto bullato Cos'è quella roba verde Tutto bullato Boh qualcosa c'è di verde lì Bende Bende Compriamo bende Paghiamo bene Io sto cercando di vedere Dentro gli edifici Se becco qualcosa Tipo una benda Io vorrei fare uno scambio Con qualcuno La balestra Per delle bende Mi sa che non funziona Quindi No Per niente Occhio 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 segui a me Non andare per le tue Voglio cercare delle acidite di bende Trovate Davvero Sì Vai Servono solo per uno Però vai In realtà forse qualcosina Mi avanza Allora Una Due Sono già felicissimo Le direi Ascolto io Due te le do Ok È un po' triste Dividere delle bende Lo so Ok Vabbè Andiamo Sì 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 Mi devo un attimo Curare E poi Arrivo Siamo rimasti in undici Siamo rimasti in undici Zitti zitti alla fine Zitti zitti insomma Abbiamo fatto un delirio Eh zitti zitti Nel senso senza vita Che eravamo spacciati Fin dall'inizio invece Ok Dobbiamo correre Non vedo nessuno Lo so che dobbiamo correre Infatti sto correndo Lì hanno fatto uno strano ponte Occhio qua Scendi nel punto più basso Che al genitore ti riprendi danno Tanto gente che corre Vicino a noi E non sei tu E non sono io Lo sentivo da due ore No l'ho sentito Sono sicura Aspetta Non eri tu che stavi correndo Perché eri sotto l'albero fermo Che cavolo succede Non lo so ma l'ho sentito Ma cavolo Io non sto Cioè io ti giuro che ho sentito qualcosa O sono pazza Può essere Cioè però ho sentito qualcosa Io mi sento Vedo Due che fight hanno a dest Ok Contro credo quelli che ho provato A sparare io prima Eh sì Quindi farei manca un solo player Perché un solo player? Perché due contro due sono lì Quattro Noi siamo due E magari era quello che ci stava Correndo attorno Può essere Potrebbe essere un cespuglio Da queste parti Infatti sto controllando i cespugli Ma non lo trovo Ci avrebbe già sparato Magari è vicino a noi Che ci guarda E ci osserva E ci osserva Stanno dicendo Eh ma questi non c'hanno nulla Non ha senso ammazzarli Fanno schifo Io mi sa che buldo su questa airdrop Siamo rimasti in sei Ok Io buldo sull'airdrop Fere Ok Vengo con te Tieniti in una posizione un po' migliore di me Tipo magari sopra quella collina Guarda la minimappa Vedi la collina com'è Quella lì sopra? Questa? Sì sì Quella vicino a me Sì 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 Io so che sbircio da qui Mi trovo qualcuno Mi viene un infarto e crepo Ok Allora vedo sempre lì giù Che stanno saltellando Siamo in cinque Mi sembra che stiano sempre fightando Quindi Sono lì giù Mi fa piacere Stanno correndo perché hanno la zona Ok Sono due Due? Due Quindi Io la trovo È quello che ci stava facendo il fantasma Io te lo dico Beh uno è ancora vivo da qualche parte Uh hanno provato a spararmi Ok Copriti Mi hanno preso No Da dietro l'albero non so come No Scendo la collina Scendo la collina Ok Io ho due medikit Quindi nel caso Non so come hanno fatto a vedermi a questa distanza Ma poi ti ha fatto one shot pesante Sì Cioè ma non Ripeto non so come Ha fatto a notare che c'era gente lì Però vabbè Ok Li vedo Li vedo Loro due li vedo Però Dove sono gli altri? Non so Non ne lo Io morirò quasi sicuramente Ma che cavolo c'hanno questi? Eh lo vedi Che non sono normali Ma c'hanno i raggi X Maledetti Uh Ah si erano fatti esplodere da soli? Occhio 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 Davvero? C'è due mischili Ma questi sono folli Lo so È difficile Lo so Io mi metto dentro il cestuglio va Aiuto Ma ti ha porto qualcuno lì sopra? C'è c'è un medikit Dove sono sbucate fuori quelle cose? Ma lo smettono? Attento Attento E lo so Non è possibile Ma sono pazzi Io non ho più materiali Aia Da dove? Non so Era sopra di me? Fatemelo vedere Forse Non lo so Non lo so Ci hanno massacrato Comunque devo dire che è andata abbastanza bene Cioè considerando tutto quello che è successo È andata abbastanza bene Certo certo Però sono rimasto arrabbiato No sì Cioè non mi ha dato proprio soddisfa Sono arrabbiato Lo so È morto Non è vero perché ha vinto Ma almeno lo ho visto crollare Ragazzi lì ci sono iniziati a tutto Lasciateci un like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli da iscrivervi per non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao